Oggi parliamo di cantieri statunitensi, in particolare dello stato del Maine. Sono piccoli cantieri che fanno barche, che sono dei gioiellini, barche per lo più in legno, veramente splendide. Salve a tutti e bentornati sul canale di Progettazione Nautica. Come potete vedere questa è una cartina dello stato del Maine, che è uno stato a nord-est degli Stati Uniti. Questi sono gli Stati Uniti, questo è il Canada, perché il Maine è l'ultimo stato sulla costa atlantica verso nord. Ed è un piccolissimo stato, molto freddo, in cui però c'è una tradizione cantieristica molto interessante, fatta di piccoli cantieri che curano tantissimo i dettagli e che ancora sono agganciati a una tradizione manuale del fare le imbarcazioni, che vale la pena di vedere. Allora, la prima imbarcazione che vediamo è del cantiere Brooklyn Bootyard. Brooklyn non è il quartiere di New York, non c'entra niente, non è neanche scritto in quella maniera lì, ma è della città di Brooklyn, nel Maine, che fa piccolo cantiere, che fa ancora barche, sia dalla forma classica, come potete vedere, che con la tecnologia classica. Questa è una forma di un'imbarcazione a motore, guardate che meraviglia, prua e poppa praticamente sono uguali, è una piccola imbarcazione a motore che serviva a trasportare le persone da una parte all'altra della baia, per piccoli spostamenti, insomma, e non è fatta per andare in alto mare. E però c'ha delle forme ormai classiche, diciamo, che questo cantiere ha ritenuto di mantenere. Chiaramente è un mercato di nicchia, molto piccolino, ma veramente molto interessante. Ecco, questa è la barca in acqua, guardate che meraviglia, è un 29 piedi, ed è una barchettina di un'eleganza e di linee che appaiono veramente immortali. Sono classiche, ma se le guardate bene, sono anche molto, molto attuali. Ancora più belle delle linee e di questo design classico, moderno, insieme, è il metodo costruttivo, che è un metodo costruttivo classico, fatto di ordinate in legno e di scafo fatto alla vecchia maniera, incrociando listelli di legno. Vediamolo un attimo. Ecco, qui vediamo un'immagine della barca in costruzione e si può vedere come ci siano delle seste che danno la forma allo scafo. Tra le seste ci sono dei longitudinali, dei listelli e all'esterno c'è lo scafo che si vede è costituito da fasciame incrociato. Noi vediamo soltanto lo strato interno e quindi è in questa direzione qui. Chiaramente ci sarà un altro strato più esterno che andrà nella direzione opposta e poi ci sono dei rinforzi, dei madieri. Qui devo dire una... Si vede un po' una caduta di stile nell'utilizzare questo legno di bassissimo livello. Però insomma, guardate, la costruzione è ancora una costruzione, oserei dire, classica se non per il fatto che invece di curvare le seste con il vapore come si faceva veramente un tempo si usano dei pannelli come fanno tutti quanti perché altrimenti poi diventa troppo complicato. Poi qui vedete queste seste vengono resonate allo scafo e ai listelli longitudinali in modo da fare un corpo unico. Poi all'interno verrà tutto resinato in modo da impermeabilizzare da rendere il legno completamente stagno e questo è il metodo costruttivo che è quello che è in uso, diciamo, nella maggior parte dei cantieri che ancora fanno le barche in legno. Ecco, come vi dicevo, vedete questa è la barca chiaramente sotto sopra, queste sono le varie seste, questi sono i longitudinali, gli stelli longitudinali e questi sono gli strati di fasciame, vedete questo va in questa direzione e questo va in quest'altra direzione in modo che si compensino le tensioni e questa è la costruzione dell'imbarcazione. Vedete quanto è piccolo il cantiere, qui c'è un'altra barca in costruzione, sono piccole realtà che fanno dei gioielli veramente molto molto belli, questi cantieri di questo tipo sopravvivono, pochi, anche in Europa, ma, dicevo, mi interessava oggi dare uno sguardo ai cantieri americani che di solito sono meno famosi per noi. Questa è la barca praticamente finita, la stanno facendo il fairing, stanno facendo la finitura superficiale, guardate che aggeggio, che pezzo di legno che usano per far uscire l'asse elica e qui poi ci andrà il timone, fantastico. Passando alle barche a vela, sempre di questo cantiere Brooklyn Bootyard, guardate che bella, questa è una barca che si chiama Equipose ed è una barca a vela, dalle linee diciamo abbastanza moderne, fatta però sempre con la tecnica delle seste in legno e dello scafo in legno. Chiaramente poi l'albero può essere in composito o in alluminio, però diciamo, questo è il viaggio di inaugurazione, c'è ancora il nastro con i fiori a prua. Questa è la dimostrazione che si può fare una barca a vela, anche in dimensioni discrete, senza avere lo stampo, facendolo con le seste e con lo scafo in legno incrociato. Guardate che belle linee, è una barca estremamente filante, molto carina, con delle linee non moderne, diciamo perché chiaramente classicheggiano, però sono linee assolutamente armoniose e molto molto belle da vedere. Chiaramente questa è soltanto una, e tu la barca è tutta in legno, ma il legno visibile è solamente questo qui della Tughe del Paramare, questa però è una scelta estetica, si poteva fare anche lo scafo in legno a vista. In questo caso hanno scelto invece di farlo bianco, per motivi probabilmente puramente estetici. Allora questa è una vista degli interni, come sapete i cantieri americani, diciamo così, hanno un gusto per gli interni abbastanza diverso dal nostro. Questi qui non sono particolarmente, diciamo così, indigeribili, sono abbastanza digeribili, qui vedete il particolare del dettaglio delle lande, vedete qua, c'è questa è la D1 e questa è la V1, e queste sono come le lande, la piastra delle lande è agganciata a questa paratia, e il divanetto, un gusto per fare, diciamo così, un po' di boiserie, invece di fare le pareti lisci, insomma, niente di particolare, colorini non particolarmente belli, insomma, però voglio dire, sono degli interni assolutamente digitosi. E parliamo del cantiere Lehman Moores, che è sempre nel main, c'ha, credo, tre sedi addirittura, fare i messaggi, fare i fitting, e fa anche nuove imbarcazioni. Questa è il, si chiama Hood 57, è un lobster, di 57 piedi, e, è molto interessante, secondo me, questo adesso è un rendering, ma la barca esiste, adesso ve la faccio vedere, è molto interessante, perché, diciamo così, è un esempio di come una barca in legno, può essere modernizzata. Vabbè, le forme sono di un lobster, e sono anche molto, molto belle, vedete intanto, che ci sono gli IPS, quindi, delle eriche traenti, e quindi dei piedi, che possono ruotare a 360 gradi, per fare anche da timoni, e, anche qui, la tuga, è il legno a vista, mentre lo scafo, è verniciato, ma, ripeto, questa è un'opzione, questo è il piano degli interni, come al solito, gli americani, sprecano abbastanza spazio, nel senso che, in generale, un 60 piedi così, ha tre cabine, questa c'era una, con, con, un bagno, però, insomma, vabbè, adesso a parte questo, ed ecco, l'imbarcazione, è ancora in costruzione, è fatta sempre con, questo è il solito modo, cioè, con le seste, sulle quali passano degli stelli, sulle quali, poi, vengono adagiati, gli strati incrociati, di, legno lamellare, la carena, è una carena, dei drys, variabile, quindi, la carena è sostanzialmente moderna, però, fatta con questa tecnica, diciamo così, non, non particolarmente nuova, nel senso che è in legno, quindi, ha un certo fascino, è una certa storia, eccoci qua, questa è un'immagine, da prua, e vedete bene come, qui ci siano proprio gli stelli, importanti, qui ci sono la fila dei chiodi, per tenere giù i listelli, e poi dopo viene, viene messa la resena, viene lucidato il tutto quanto, e poi in questo caso viene carrozzato, e addirittura anche verniciato, questa è la barca in navigazione, veramente molto bella, molto elegante, sta bene sull'acqua, gli interni sono, sì, diciamo, insomma, lo solito stile americano, ma non male, colorini un po' tenui, diciamo, però sono, diciamo, niente di raccapricciante, la barca è fatta, veramente, veramente, molto bene, è una barca elegantissima, fatta per un pubblico, diciamo, che non è alla sua prima imbarcazione, in generale gli americani, sono bravissimi, a fare la sala macchine, gli impianti, ci dedicano tantissimo tempo, è tutto molto ordinato, molto pulito, molto ben accessibile, diciamo così, e qui entriamo proprio, nella pornografia pura, nel senso che, questa qui, è un cantiere che si chiama Van Damme, questa barca si chiama Alfa Z, ed è una barca, diciamo, appunto da salotto, nel senso che, vedete, è fatta in legno, e in questo caso, addirittura, il legno è a vista, ed è lucido, e guardate, è praticamente un violino, un'opera d'arte, che, non so quante ore farà in mare, ne farà molte più a terra, probabilmente, ed è nata, era la riproduzione di una barca veloce, che faceva le competizioni, ma ora, ovviamente, queste barche non sono più usate, per fare le competizioni, ma sono usate, come sono usati i taxi, di Venezia, diciamo, per fare bella mostra di sé, e, diciamo così, partecipare a qualche manifestazione annuale, per farsi ammirare, guardate che cos'è l'apparato propulsivo, veramente splendido, è veramente un'opera d'arte, sono tutti pezzi unici, qui, vedete, c'è però una propulsione, col cardano, quindi, insomma, una cosa importante, moderna, guardate gli scarichi, che belli, guardate il dettaglio, di questo pezzo di legno, che si incastra, sullo specchio di poppa, sono, ovviamente, pezzi unici, bellissimi, che, ripeto, servono più, a essere ammirati, che ad andare in mare, questo è il dettaglio, del motore, pulitissimo, come sa la macchina, ci si può mangiare, è tutto pulitissimo, lucidatissimo, bellissimo, risplendente, ed è chiaramente, non so, forse scenderà in mare, due o tre volte all'anno, una barca, una barca del genere, però, insomma, è da ammirare, in quale, quale esempio, di arte, che unisce meccanica, e fa legnamerie, e questa è una bellissima vista dall'alto, che ci fa vedere, un punto, le forme, che anche qui, sono, delle forme, classiche, ma modernissime, guardate, guardate, ci sono soltanto due linee, la linea, di fuori bordo, diciamo, e questa linea, di coperta, e guardate, che, disegno, magnifico, è classico, ma è anche modernissimo, e minimalista, lo stesso cantiere Van Damme, ha in progetto, di fare, un'imbarcazione, come questa, molto, molto carina, ormai, adesso vanno molto di moda, queste barche, con, diciamo così, lo scafo, moderno, con la prua dritta, ma la poppa classica, e la tughetta, la tuga, diciamo, classica, come le barche, come fossero delle decaus, insomma, molto, molto carina, queste ancora sono dei rendering, ma, diciamo, è stata già annunciata, questa è un'altra vista, dell'imbarcazione, guardate, secondo me, molto riuscita, secondo me, è una barca, che chiaramente, in questa nicchia, di imbarcazioni, è molto riuscita, perché ha delle linee, semplicissime, anche qui, a cavallo, fra, il classico, e il moderno, e, secondo me, ha le sue, ha delle potenzialità, insomma. Questi sono gli interni, che in questo caso, invece, mi piacciono moltissimo, perché sono fatti, di pochissimi elementi, praticamente, è tutto bianco, tranne le seste, che sono color legno, e qualche piano, con delle buiserie, sempre, molto leggere, e in bianco, molto carino, mi piace molto, gli spazi, sono ben sfruttati, direi che, questa è una barca, diciamo così, da tenere sott'occhio, perché, è veramente, molto carina. Ok, io, vorrei farvi altri, 3000 esempi, ma tutti mi dite, che sono troppo prolisso, e faccio i video, video troppo lunghi, quindi, la finisco qua, mi raccomando, iscrivetevi, il 70% delle persone, che guardano i video, non sono iscritte, quindi, iscrivetevi, così, non potete, così, potete attivare, la pannellina, e vi sarete avvertiti, quando un nuovo video, esce sul canale, fatemi sapere, i vostri commenti, e anche barche, che vi sono piaciute, che avete visto, così, le analizziamo, le, diciamo, ne guardiamo, le caratteristiche. A presto, ciao a tutti.